Ciao ragazzi, benvenuti nel secondo video di oggi, sempre su Red Dead Redemption 2, mi sto gasando a portarvi tutti questi video molto particolari, ecco. Ragazzi, Enigma delle Statue. L'avrete già visto anche da qualcuno, però io vi sto portando tutto e toccava anche a me farlo ovviamente. Ragazzi, Enigma delle Statue vi farà guadagnare 1500 dollaroni, dollari ragazzi. E' molto facile, chiaramente adesso vedrete tutta la clip dell'ordine delle Statue, eccetera eccetera. Prima devo dirvi un paio di cosette, innanzitutto ringrazio Salvatore per avermi registrato la clip dell'Enigma delle Statue. Punto numero 2 ragazzi, le Statue praticamente saranno 5. Per attivare l'Enigma dovete praticamente andare alla Statue centrale e schiacciare il bottoncino sotto la Statua, ecco. Poi, Statue numero 1, Statue numero 2, Statue numero 3 e Statue numero 4. Dovete cliccare anche lì i bottoncini. Alex, ma qual è l'ordine? Ci sarà tutto in questo video ragazzi. Poi per prendere i 1500 dollari sarebbero i tre lingotti duro, basta che dopo aver fatto tutte le Statue andate alla centrale che prenderete poi i tre lingotti ragazzi. Guardate ragazzi attettamente il video per vedere la mappa e tutto lì. E niente ragazzi, ci becchiamo al prossimo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Bella! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.